www.feyyaz.tv Più importanza di altre cose Tipo il sesso? Beh, anche sì Certo No? Sì, sì Lei almeno prende due polpi Per far cosa? Trombasse Che cazzo dici? Che la osa più simile alla topa che esiste Solo te perché in Inghilterra si dice octobussi? Che c'è? Hai fatto il mio polpo? Ah, l'avevi comprato te? Ma perché dovevi chiamare una puttana? Per tutto, ti dà una mano Dolori, eaculazioni precoci, blocchi mentali Stai già visto? Sì, alcuni ce l'hanno Però volendo posso anche farmi fare una seghe e basta, no? Ma sei scemo C'è una seghe a 150 la faccio io Vorrei mettere la testa fuori dal finestrino Però c'è sempre paura di una galleria, di un palo E quindi non lo fai? Eh, no Però io lo voglio fare There's just one place to hide Arrèmo 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 Arrèmo